Signor Scaiola, lei ritiene di aver adoperato in modo non corretto l'auto blu del comune? Mi pare di no, anche perché francamente non ce ne sarebbe motivo. Si sa, si vede come io mi muovo, salvo quando è necessario. L'auto serve al sindaco e agli amministratori quando ci sono occasioni relative all'attività svolta amministrativa dal sindaco o dagli assessori. Ma non entro nel merito di questo perché c'è un'indagine in corso e quindi mi hanno proibito i miei avvocati di fare valutazioni su questa indagine. Posso semplicemente dire che sono venuti a chiedere in comune la documentazione su diversi aspetti di questa cosa. Sono state consegnate tutte le documentazioni in maniera serena e con grande collaborazione. Non ho nessun motivo di preoccupazione, d'altra parte non l'ho mai avuta nella mia vita perché so di comportarmi bene. Quindi non ho nessuna minima preoccupazione. Ho il rispetto verso coloro che lavorano e quindi ho il rispetto nei confronti di quelli che adesso seguiranno questa indagine e poi vedremo quale sarà l'evoluzione. Ma voglio che si rispetti anche il mio lavoro. Io lavoro non so quante ore al giorno e quante ore di notte per dare il mio contributo perché Imperia possa crescere e svilupparsi. Tante cose si incominciano a vedere, tante cose non si vedono ancora. Lavoro molto. Spero di lavorare anche bene perché Imperia possa crescere e quindi dare lavoro ai nostri figli, dare prospettive. Certo sono un po' stanco. Sono stanco dal lavoro che svolgo e le assicuro che quando lavori, fatichi, per un interesse pubblico e senza un interesse personale ecco un po' amareggia pensare che ci sia qualche manina che fa esposti o che fa o che pensa che fare il bene della città sia quello di disturbare il manovratore invece che collaborare. Ma passerà, il mio tempo non viene diminuito da questa vicenda neanche di un minuto per svolgere il mio compito da sindaco. Questa cosa è avvenuta un paio di giorni fa, ho proseguito a fare il mio lavoro continuamente, più di prima se qualcuno pensa che si possa indebolire il mio lavoro attraverso invenzioni o calunnie ha sbagliato. Grazie. Grazie.